buonasera a tutti facciamo insieme questa preghiera nella solennità dell'annunciazione del signore questo 25 marzo ci troviamo a pagina 65 nel nome del padre del figlio e lo spirito santo amene il signore sia con voi e con il tuo spirito dal vangelo secondo luca allora maria disse ecco la serva del signore avvenga per me secondo la tua parola e l'angelo si allontanò da lei è un giorno di gioia oggi questo dell'annunciazione un giorno nel quale gioire profondamente con il signore sono due sentimenti sicuramente contrastanti quello della gioia e quei sentimenti che sicuramente agitano i nostri cuori in questi giorni eppure l'angelo proprio a maria dice non sia turbato il tuo cuore e maria è capace di dire quell'eccomi ecco questo eccomi sia proprio quello che vogliamo avere in comune con maria questa disponibilità ad accogliere proprio la volontà del signore e con questo che ripetiamo insieme in ascolto della tua parola signore in ascolto della tua parola signore come maria ci vogliamo porre in ascolto della tua parola signore come maria vogliamo dire il nostro eccomi in ascolto della tua parola signore come maria accogliamo il tuo disegno in ascolto della tua parola signore e vogliamo recitare anche un ave maria allora in questo giorno speciale davvero dell'annunciazione ave o maria piena di grazia il signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte amen insieme preghiamo come il signore ci ha insegnato padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male il signore sia con voi e con il tuo spirito vi benedic di ogni potente padre figlio e spirito santo benediciamo il signore rendiamo grazie a dio e buona serata di cuore a tutti